Catturare gli obiettivi. Prendiamoci! voglio andare verso A non riusciamo a fare i pezzi come nel video del DLC quello come è riuscito a sparare quello ha rotto le palle giuro quello ha rotto le palle guarda questo tu cazzo è arrivato prendiamo alfa non fa nervosia oh madonna perdiamo Charlie c'è una centromappa dietro allora dopo questa piccola tripis ma dai mi ha one shotato ma cos'è una presa per il culo fanculo abbiamo perso Charlie in mano nemica bonus specialista ottenuto dammalo cazzo che fail ma come fa prendiamo Charlie prendiamo Charlie perdiamo B abbiamo perso B che nessuno via le bandiere prendiamo Charlie ma porca guarda questo questo cazzo oh ma guarda che buono prendiamo A muori non sapevo che riuscire in là perdiamo Charlie abbiamo perso C perdiamo Bravo frega mazzalo oddio il compagno cosa fa abbiamo perso B ah ti odio Charlie in mano nemica guarda questo bravo sotto controllo prendiamo Charlie muori merda perdiamo Bravo estrazione rapida abbiamo perso Bravo bravo in mano nemica ora togliamo in campo prendiamo B bravo sotto controllo dai porca troia mi chiudono negli angoli ma che devo fa prendiamo Charlie allora il cazzo perdiamo Alpha ma ho sperato prima che uscisse perdiamo A abbiamo perso Alpha estrazione rapida Alpha in mano nemica agilità prendiamo A bonus specialista ottenuto oh rimmerda rimmerda lo sapevo è venita dietro cazzo sono di nuovo dietro in A aspetta ma questo dovrebbe vedere nel fumo oh ah 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 sucate merda ho visto no merda prendiamo Alpha no rimmerda hold up ah 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 come circondato no 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 cazzo e questo marina d'accanto ma può essere possibile sta cosa io odio quando il gente non muore è panico bravo in mano nemica ma pure quando non vedo nessuno guardi che la gente sta a camperà e ciao stavo bello ti so in cula io mi do vediamo qui dietro di me non c'ho colpi vedete la granata no porca puttana lì è di pezzi di merda si finisco ma che cazzo fa questo oh mio dio che ti sei preso zio abbiamo perso charlie non possiamo fallire charlie in mano nemica estrazione rapida mamma mia mamma mia prendetevi questo che cazzo sto fa che cazzo sto fa oh non lo prendo oh non lo prendo no mi ha preso da dietro tutta sta fatica porca troia mori merda no 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 tu non ti salvi tu non ti salvi tornato merda mori merda bravo sotto controllo mi lascia un po' in pace vieni qua mannaggia 90 kill mannaggia c'ero così vicino porca puttana potevo farne 100 devo essere più svelto che cazzo queste cose mi fanno rosicare troppo vabbè non worry bitches sono sempre 90 bombe